Televidente, una felice notte. Russia ha accusato America di declarare una guerra economica. Presidente Russo Putin ha assicurato che Russia ha avuto una reazione adecuata. Sin embargo, non è chiaro che cosa esattamente significa. Ayer America ha incrementato la sanzione economica e finanziaria considerabile contra la Russia, imponendo una proibizione di importanza di petroli e gas. La sanzione americana ha fatto praticamente entere infrastruttura economica e finanziaria di Russia, mentre l'Europa sta tomando passo per ridurre la compra di petroli e gas il più rapido possibile. E' effetto economico e finanziaria che ha pisa. Economista ha fatto una più crisi economica e finanziaria che Russia ha avuto nel principio del 1990, con la caída dell'Unione Sovietica. Però, Russia ha advertito per la fin di settimana tras di lomba che lo ha ripresato, sta amenazando di suspender il suo ministro di gas per Europa. Aveva una declarazione di Dmitri Peskov, vocero del Kremlin di Moscù, sede del governo di Russia, ha indicato che la sanzione americana ha avuto con una declarazione di guerra economica. Ma io ho detto che Presidente Russo Putin lo riunico su consejero, riva è assunto. Presidente Putin è arrivato a suo punto, che l'invasione di Ucraina è stata una necessità per garantire la sicurezza russa, non è unicamente per difesa di russi in l'oste di Ucraina. Russia è stata con l'America e l'organizzazione di alianza militare di Norte America e l'Europa, OTAN, di assaggi expandere la presenza militare di l'oste di Europa praticamente nella porta di Russia, a pesar di década in largo di advertencia. L'America ha detto che la invasione di Ucraina è stata senza provocazione, però per la Russia è l'expansione di OTAN, in l'oste, incluendo il passaggio per incorporare l'Ucraina di OTAN la provocazione e il livello di più alto. Mentre il prezzo di gasolino è subito a un livello alarmante, prezzo di gas, gasolino e altri prodotti che derivano di petrolio, è aumentato a un livello record. L'acqua in Holanda è prezzo di gasolino in un certo area è arrivato a 2,59 euro per litro. L'esforzo per un'evacuazione sano e salvo fuori di città di Ucraina, che è stato fatto di attacchi, è continuato, ma non c'è questa difficoltà. E qui, a pesar di questo, c'è un accordo con Russia, che lo permetteva. Ayer, l'Ucraina e la Russia arrivano in un accordo per suspender la hostilità, e, con un'altra parola, per stoppire il tirato per 2 ore largo per motivo di umanitario, per evacuare la città di Ucraina. con un'altra parola di attacchi. E, per una hostilità, se possibile, famiglie si evacuano in un'altra parte, particolarmente, in una regione di Somi, in un'altra parte, per esempio, in una città di Irpin, che si dice, in una città di città di Kiev. In un'altra parte, il rapporto di questa evacuazione è stata accennata, per fin, relativamente buona, ma non è durata mai a che il bomba si è arrivato. Il rifugiato non è in evacuazione ma si è conto con un sonore di explosione di distanza mentre non è iniziato a fare il fuori. Il governo di Ucraina, più a più, è accusato a Russia di non mantenere la sua parola. Il governo di Ucraina sta causando una crisi humanitaria che sta affettando mille di persone direttamente. Il reto non per il rischio e il cuido di persone in questo è enorme. E tu sai che, mai e mai, di una pandemia di Covid-19 che non è ancora finita. Asi è il Dr. Tedros, Secretario General dell'Organizzazione Mondiale di Salute, WHO, che sta coordinando l'aiuto per il rischio di essere rifugiati in questo istituzione. Secondo il Dr. Tedros, c'è un mestiere di assistenza e più aiutare, ma la soluzione reale per la crisi qui è la paz. Il governo di Ucraina ha attivato un team multidisciplinario per attivare i rifugiati in Ucraina. Il governo di Ucraina ha registrato 2.300 peticioni di asilo in Holanda, ma il governo di anticipa più di 50.000 rifugiati in Ucraina in Holanda e sta preparando paesi qui. Assinà, Minister Presidente Holandese Mark Rutte ha informato. De opvang di Ucraina di Ucraina, il governo di Ucraina, il governo di Ucraina, ma in nauwe afstemming met financiën, met volkshuisvesting, met onderwijs en met volksgezondheid. En die zal dan weer uiteraard ook rapporteren aan de vergadering die we zojuist hadden, die ik zelf voorzit, om ervoor te zorgen dat dat specifieke vraagstuk van vluchtelingenopvang, dat die in goede banen wordt geleid. Er gebeurt heel veel. Gisteren goed overleg met de veiligheidsregio's. Iedereen is bereid om te zorgen voor veel opvangplekken. En dat is op zichzelf heel goed om te zien, maar dat moet wel een goede baan worden geleid. Dus vandaar het activeren van die zogenaamde crisisbesluitvorming over dat specifieke onderwerp van de opvang van vluchtelingen. En met de Marcos, Daniel Willems, pas een felice nocci.